Diciamo che ci abbiamo provato e in qualche modo è cambiato, si è trasformato proprio il panorama della città in relazione ai libri, per cui più che scommettere su di noi è stata la scoperta di una situazione che forse già esisteva, di una fame, insomma di un bisogno che c'era già in città e per questo forse ha funzionato. Ci hanno provato e ci sono riusciti a rendere la libreria un luogo inclusivo, piacevole da vivere, trasmettendo così l'importante messaggio che nel 2016 vivere di cultura si può. Non è stato un cammino tutto in discesa per i sei attuali proprietari della libreria Edison di Arezzo. L'apertura nel 2006 come gestori, il successo della prima libreria aperta fino a mezzanotte, sette giorni su sette con bar e tavolini e con un approccio diverso e vincente. Ma noi siamo convinti che uno che entri qui dentro debba essere libero di girare tranquillamente, toccare i libri, sfogliarli liberamente in tranquillità, guardare da solo, ma se ha bisogno di un consiglio noi siamo qui. Nel 2012 la tegola del fallimento della casa madre è di pari passo la voglia di proseguire un cammino che è diventato un progetto di vita. Ci siamo dovuti confrontare prima di tutto con una liquidazione dell'azienda e poi con un fallimento. Certo i rischi c'erano e continuano ad esserci, però abbiamo preferito rischiare e vedere di acquistarla. Una voglia di farcela che alla fine ha prevalso anche grazie ad una squadra di lavoro che ha trovato la sua dimensione pur venendo tutti da storie diverse. Soprattutto io ho cercato di cogliere in ognuno dei miei colleghi una qualità che io non ho per completare il quadro. Sono un tipo io personalmente che non guardo mai indietro, non guardo mai avanti, quindi mi concentro sul momento e pensando appunto a come è nata, almeno per me personalmente, insomma come si è sviluppata la cosa, bene ovviamente, lo rifarei tranquillamente. Oggi ci sono nuove idee e voglia di tenersi stretto il mestiere del libraio, consapevoli che la fame di cultura va sempre stimolata, come ad esempio l'iniziativa di UZIT per rimettere in circolo libri usati. Noi accettiamo un pacchetto di libri che può essere fino a un massimo di 10 libri circa. Questo poi viene fatto a una valutazione di questi libri e viene convertita in un buono che permette di acquistare dei libri di copertina, diciamo, nuovi. Sostanzialmente questo è una sorta di scambio, di arricchimento, sia per noi, che rimettiamo in circolo un libro che magari ha perso interesse oppure può essere conosciuto da qualcun altro, sia per la persona che ce li porta perché può acquistare dei libri nuovi. Dopo dieci anni esatti, il prossimo 30 di settembre, Johnny, Linda, Marzia, Fiorella, Giacomo e Di Rene, festeggeranno questo traguardo con la città dalle 18 alle 20. Non tanto celebrazione, insomma, il fatto semplicemente di fare un brindisi a tutto quello che è successo e a quello che succederà, certo.